Qua siamo al Genovesi che è stata la casa di Mia dove lei ha insegnato per tanti anni, è stata vicepreside, poi preside, ha formato generazioni di studenti e queste aule, questi luoghi sono pieni del suo insegnamento, della sua umanità, della sua partecipazione alla vita degli studenti. Quindi questo riconoscimento è un riconoscimento molto bello perché consentirà anche a chi non l'ha conosciuta di poter ricordare una persona straordinaria, una persona che ci manca tanto e che speriamo di ricordare con le azioni che faremo nella nostra amministrazione continuando l'impegno che lei aveva con tanta forza messo in campo. Fra gli incarichi di Mia Filippone precedenti alla sua esperienza di vice sindaco del comune di Napoli, quello di dirigente scolastica del liceo genovesi è stata la circostanza che ha portato oggi sia ad organizzare una giornata di studi sul tema dell'umanesimo e di uno sguardo etico al progresso nell'oratorio dei nobili del liceo, primo di un ciclo di incontri culturali aperti alla cittadinanza, sia ad intitolare la sua memoria alla biblioteca del liceo di piazza del Gesù Nuovo, coinvolgendo anche gli studenti del liceo musicale Margherita di Savoia e dell'indirizzo enogastronomico e servizi alberghieri dell'ISIS Vittorio Veneto. Grazie a tutti.